Buonasera e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Silvio Berlusconi è stato ritenuto ideatore, organizzatore del sistema e fruitore dei vantaggi relativi in relazione alla frode fiscale nella compravendita dei diritti televisivi da parte del gruppo Mediaset. È quanto si legge nelle motivazioni della Corte d'Appello di Milano. I dettagli nel servizio. Dopo la sentenza che ha condannato Silvio Berlusconi a una interdizione dai pubblici uffici di due anni nel processo relativo ai diritti televisivi, si leggono le motivazioni della Corte d'Appello di Milano. L'ex premier è stato ritenuto ideatore, organizzatore del sistema e fruitore dei vantaggi relativi in relazione alla frode fiscale nella compravendita dei diritti TV da parte del gruppo Mediaset. Nelle motivazioni della rimodulazione a due anni dell'interdizione, i giudici d'Appello spiegano loro no all'eccezione di costituzionalità. La legge Severino ha un ambito di applicazione distinto, ben diverso e certamente non sovrapponibile con quello oggetto del processo con cui Silvio Berlusconi è stato condannato all'interdizione. Ecco perché la Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di costituzionalità proposta dalla difesa del leader del PDL sulla legge Severino. Ed ecco perché secondo i giudici questa eccezione è irrilevante. Il ruolo pubblicamente assunto dall'imputato, non più e non solo come uno dei principali imprenditori incidenti sull'economia italiana ma anche e soprattutto come uomo politico, aggrava la valutazione della sua condotta, si legge. In particolare la sentenza, continuano i giudici preseduti da Arturo Soprano, ha definitivamente accertato che Berlusconi è stato l'ideatore ed organizzatore negli anni 80 della galassia di società estere, alcune delle quali occulte, collettrici di fondi neri e apparenti intermediari nell'acquisto dei diritti televisivi. Passiamo agli esseri. Russia al centro dello scandalo per regali sospetti dopo il G20 di San Pietroburgo. Pare infatti che chiavette USB e cellulari fossero piccoli strumenti di spionaggio. Tramite gadget truccati il leader russo Vladimir Putin voleva spiare l'Unione Europea. L'accusa è pesantissima e durante l'ultimo G20 che si è svolto nel settembre scorso a San Pietroburgo ai capi di Stato e di governo sono stati consentiti gadget che in realtà erano strumenti di intrusione per computer e telefonini. È l'ultimo capitolo di una vicenda che rischia di creare fratture gravissime nelle relazioni diplomatiche. Tornando allo scorso 5 settembre, al G20 convocato dalla Russia per discutere di tematiche importanti quali la Siria, insieme a Francia e Stati Uniti non sono mancati momenti di tensione tra i paesi sulla questione dell'estradizione di Snowden. Alla fine, il curioso regalo, chiavette USB per computer e cavi per la ricarica dei telefoni cellulari. Il primo a stupirsi è il Presidente del Consiglio Europeo, Hermann Varunpui, che una volta è entrato a Bruxelles in carica responsabile della sicurezza ed effettuare accertamenti su tutti i dispositivi. Si decide di chiedere l'ausilio dei servizi segreti tedeschi e l'esito delle prime analisi è positivo. Nella comunicazione ufficiale trasmessa attraverso i canali dell'intelligence a tutti gli stati partecipanti si specifica che le chiavette USB e i cavi di alimentazione sono idonee alla captazione clandestina dei dati di computer e telefoni cellulari. Le verifiche effettuate sino ad ora avrebbero dimostrato la capacità di intrusione dei dispositivi, ma non viene specificato se qualcuno abbia effettivamente utilizzato chiavette e cavi. Si tratta in ogni caso di una vicenda che rischia di arroventare ulteriormente il clima e di rendere ancora più complicati i rapporti dell'Unione con la Russia. E arriviamo alla cronaca. Sono state arrestate cinque persone nell'ambito di un'inchiesta del nucleo investigativo di Roma che ha scoperto un piccolo giro di prostituzione minorile. Una madre insospettita dalla disponibilità economica della figlia minorenne si è rivolta ai carabinieri. È stata così scoperta un'abitazione in Viale Pariola, Roma, dove tre uomini contattati da due minorenni tramite social network e organizzavano incontri sessuali. Grazie all'indagine sono state arrestate insieme a una cliente e alla madre di una delle due ragazze. In totale sono cinque le persone fermate dal nucleo investigativo dei carabinieri della capitale italiana. Le ragazze hanno 14-15 anni. Una delle due era stata adescata su Facebook da tre uomini e aveva poi coinvolto l'amica. I tre le avevano avviate alla prostituzione, procacciando i loro clienti anche attraverso annunci privati via internet, in cui venivano spacciate per maggiorenni e tratterendo per loro parte dei guadagni. Apparentemente le giovani continuavano a svolgere un'attività regolare. La mattina andavano a scuola, mentre quasi tutti i pomeriggi si prostituivano. I guadagni venivano spesi anche per l'acquisto di sostanze stupefacenti ad uso personale. Gli incontri avvenivano in un appartamento dei Parioli, gestito da uno degli arrestati, che è stato posto sotto sequestro dai militari. Effettuate anche perquisizioni nell'abitazione dei clienti delle due minorenni. Tra gli arresti anche uno dei clienti, un 29enne, che sarebbe stato consapevole dell'età delle due minori, indagato anche per la produzione di materiale pedopornografico e tentata estorsione nei confronti di una ragazza. Le avrebbe chiesto 1.500 euro per non diffondere un video che riproduceva le prestazioni della giovane. Apriamo la nostra pagina regionale e proseguiamo con la cronaca. Un nuovo particolare è emerso per le indagini sul delitto di Yara Gambirasio. Un sasso con tre macchie scure, probabilmente di sangue, è stato ritrovato proprio vicino al luogo del ritrovamento del corpo senza vita della 13enne. Tra poche settimane saranno ormai passati tre anni dall'omicidio di Yara Gambirasio. La 13enne di Brembati di sopra scomparsa il 26 novembre 2010 e poi ritrovata esattamente tre mesi dopo senza vita in un campo di chignolo d'isola. Nonostante l'impegno degli investigatori, ancora non si è riusciti ad arrivare all'omicida e l'unica certezza che arriva dal DNA è il fatto che l'assassino sia il figlio illegittimo di Giuseppe Guerinoni, autista di Gorno, scomparso nel 1999. Negli ultimi giorni però è emerso un nuovo particolare che potrebbe smuovere la situazione di stallo in cui si trovano le indagini. Un sasso con tre macchie brunastre, una più grande e le altre due più piccole, è stato trovato ai margini della boscaglia che circonda il campolo di via Bedeschi a chignolo d'isola, a non più di 300 metri dal punto dove il 26 febbraio 2011 venne ritrovato il corpo senza vita di Yara. Un elemento che potrebbe dare risvolti importanti sull'assassino. Fino ad ora questo dettaglio non era mai stato reso noto e visto che nel corso dei mesi non sono arrivate grosse rivelazioni sul colpevole, gli inquirenti hanno preferito agire nel massimo riservo. Ma già nei prossimi giorni, in seguito all'analisi delle macchie che sarà effettuato dai RIS di Parma, si potranno avere maggiori informazioni. Dopo la presentazione di ieri durante gli stati generali del patto per lo sviluppo, oggi il documento che chiede di cambiare il patto di stabilità è stato dibattuto nel Consiglio regionale Lombardo. Patto per lo sviluppo per eliminare il patto di stabilità. Oggi il Consiglio regionale della Lombardia ha portato in aula la discussione sul documento congiunto da tutte le parti politiche presentato ieri durante gli stati generali. Sicuramente il patto di stabilità va rivisto e questo è secondo noi assolutamente corretto. Non condividiamo assolutamente tutta la parte di Expo, perché Expo giustifica qualsiasi cosa, su questo non siamo d'accordo, perché bisogna veramente lavorare a lunga scadenza sul territorio, seriamente e soprattutto non dire solo che si lavora per fare i titoli dei giornali, ma poi lavorare concretamente, perché veramente i lavori qui sono rallentati e questo dipende veramente dalla volontà della maggioranza. Quindi quello che noi chiediamo è di lavorare seriamente, noi ci impegniamo veramente, stiamo lavorando tantissimo, chiediamo che tutti lavorino tantissimo, ma non solo per affermare la propria superiorità politica, ma veramente per il bene delle persone, perché è ora di farlo. Io credo che abbia fatto bene oggi l'assessore Garavaglia a informare il Consiglio su un documento che è stato sottoscritto da tutti, sindacati, organizzazioni di categoria, per cui credo che questo sia il massimo della condivisione che ci potrebbe essere su un documento che noi riteniamo importante, perché il patto di stabilità è una vergogna per i comuni, lo hanno detto i sindaci, lo ha detto l'Anci, il patto di stabilità ad oggi, ho sottolineato, non dà garanzie nemmeno per l'Expo, perché tutti parlano di Expo come si è ormai fatta, c'è un piccolissimo particolare, che i soldi per fare l'Expo arrivano se ce la deroga il patto di stabilità, se no non si fa l'Expo. Sì, un documento importante che vede tutte le parti sociali, economiche, istituzionali della Regione Lombardia concordi nel chiedere, nell'invitare la Regione Lombardia a farsi promotrice per chiedere al Governo di cambiare il patto di stabilità. Questa anomalia tutta italiana, infatti ricordiamolo, i cittadini non lo sanno. Solo in Italia le regole del patto di stabilità vengono ribaltate sugli enti locali, nel resto d'Europa il patto di stabilità riguarda solo il bilancio centrale. Cosa succede invece da noi? Succede che lo Stato centrale continua ad aumentare la spesa con i propri ministeri, gli enti territoriali, regioni, province, comuni hanno tagliato tantissimo la spesa negli ultimi anni, eppure questo taglio è stato vanificato perché nel frattempo il totale è aumentato. Questa situazione ovviamente mette in enorme difficoltà anche la Lombardia, anche il motore economico del Paese e quindi tutto il mondo sociale e economico della regione Lombardia, sindacati, parti datoriali, tutti, senza giocare alla destra e alla sinistra, chiedono che queste regole vengano cambiate. È un dato politico molto importante. Presidi oggi davanti alla regione Lombardia dei lavoratori di Alcatel, Lucent e di Vimercate per il licenziamento di circa 600 di loro e lo spostamento degli stabilimenti all'estero. La regione Lombardia non può permettersi di lasciare andare all'estero una risorsa strategica per le telecomunicazioni. I lavoratori di Alcatel, Lucent e di Vimercate in presidio davanti alla sede della regione oggi hanno chiesto un coinvolgimento diretto delle istituzioni e del presidente Roberto Maroni per i molti licenziamenti previsti dall'azienda. Allora siamo qui davanti alla regione Lombardia perché vogliamo che finalmente dopo anni di totale assenza la regione Lombardia faccia una politica di investimenti, una politica industriale nel settore delle telecomunicazioni. Questo serve per salvare centinaia di posti di lavoro che sono messi a rischio nello stabilimento di Vimercate da un piano di ristrutturazione dell'azienda che vede 600 esuberi. Ecco perché c'è questo piano? Il piano c'è perché Alcatel, Lucent è un'azienda fortemente indebitata che ha deciso quindi di tagliare interi segmenti di attività ma soprattutto per quanto riguarda le trasmissioni terrestri, le trasmissioni ottiche che sono gli apparati che noi sviluppiamo a Vimercate Alcatel, Lucent ha deciso di spostare gli investimenti negli Stati Uniti d'America perché lì c'è mercato e ci sono clienti quindi le nostre tecnologie si stanno man mano trasferendo negli Stati Uniti d'America e il risultato è che noi perdiamo il posto di lavoro. Quanti italiani e quanti lombardi rischiano di perdere il posto di lavoro? Sul piano di ristrutturazione, quello nuovo che è di circa 600 più 100 del piano vecchio, quindi un totale di 700 persone sul territorio nazionale oltre 500 perderebbero il posto di lavoro a Vimercate. Voi avete chiesto all'azienda spiegazioni o comunque delle soluzioni? Sì, noi abbiamo appena avviato un confronto con l'azienda su questo nuovo piano al Ministero dello Sviluppo Economico avremo un incontro ancora domani speriamo che l'azienda sia in grado di dare qualche progetto alternativo che dobbiamo conquistare la disponibilità a discutere di alternative perché un piano di tagli di queste dimensioni ovviamente non è affrontabile con gli ammortizzatori sociali quindi il Ministero ha chiesto che si trovino le soluzioni per dare continuità alle attività vedremo se c'è questo spazio proseguiamo con la salute sono 120 mila gli italiani costretti a letto in questi giorni per la falsa influenza l'influenza invece quella vera arriverà con l'abbassarsi delle temperature naso intasato, dolori articolari, tosse, sensazione di intontimento e qualche linea di febbre sono questi i sintomi della falsa influenza che in questo periodo sta costringendo ben 120 mila italiani a letto falsa perché anche se il numero dei casi diagnosticati è in aumento gli esperti avvisano il vero virus dell'influenza stagionale non è ancora arrivato quando l'influenza arriverà davvero con l'abbassamento delle temperature gli italiani costretti a letto saranno 4 milioni nel frattempo le sindrome parainfluenzali la fanno da padrona e si rivelano molto utili i consigli degli esperti per arginare il contagio anzitutto è importante lavare spesso le mani coprire bocca e naso quando si starnutisce o tossisce e usare regolarmente fagioletti use e getta costituiscono buone regole per una corretta igiene respiratoria utile l'isolamento a casa delle persone con malattie respiratorie e febbrili soprattutto quando queste sono nella loro fase iniziale qua udovante nelle misure preventive si aggiungono le vaccinazioni anti-influenzali da anni considerate potente strumento di prevenzione dell'influenza soprattutto per anziani e malati cronici la campagna vaccinale è partita lo scorso 15 ottobre il vaccino che ha un'azione trivalente è disponibile in tutte le farmacie ed è gratuito per le categorie a rischio con questo è tutto grazie e arrivederci